Cittadini, maggiorenni e residenti sul territorio italiano possono partecipare al piano cashback con la possibilità quindi di ottenere un rimborso sul proprio conto corrente per gli acquisti effettuati nei negozi tradizionali e pagati con carta di credito e bancomat. Per partecipare è sufficiente scaricare l'app Io fornita dalla pubblica amministrazione, fornire il proprio codice fiscale, inserire il numero delle carte che verranno utilizzate per gli acquisti e il proprio IBAN bancario sul quale poi verranno accreditate le somme del cashback. Il piano cashback fa parte del più ampio programma cashless messo in piedi dallo Stato per combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Questo piano è lo stesso che prevede anche l'ultra cashback e il cashback di Natale nonché la lotteria degli scontrini. Un programma che vedrà svilupparsi per tutto il 2021 con rimborsi che potranno arrivare fino a 3.450 euro. Mentre il cashback di Stato prevede un numero di 50 operazioni a semestre, il cashback di Natale prevederà invece un minimo di 10 operazioni per semestre. Il rimborso sarà sempre del 10% su una spesa massima effettuata a livello semestrale di 1.500 euro. Le operazioni che verranno prese in considerazione sono quelle con spesa fino a 150 euro ed effettuate nei negozi tradizionali. Sono di fatti esclusi gli acquisti online. Basterà quindi anche una singola transazione per un solo caffè per poter aderire e partecipare al programma dopo aver scaricato l'app Io.